Per credere è necessario saper vedere con gli occhi della fede come fece Abramo che contro ogni speranza confidò nella parola di Dio che gli prometteva un figlio. Lo ha detto Papa Francesco durante la catechesi dell'udienza generale dedicata proprio a questo padre nella fede e nella speranza. Abramo ha insistito il pontefice, crede, la sua fede si apre a una speranza in apparenza irragionevole, essa è la capacità di andare al di là dei ragionamenti umani, della saggezza e della prudenza del mondo. La speranza dunque apre nuovi orizzonti, rende capaci di sognare ciò che non è neppure immaginabile, ma è un cammino difficile, lo sconforto è sempre in agguato. E così Abramo si lamentò con il Signore per la sua delusione, così come succede oggi a tanti fedeli. Ma anche questa è fede, ha chiarito Papa Bergoglio, perché lamentarsi con il Padre Celeste è un modo di pregare. La fede non è solo silenzio che tutto accetta senza replicare. La speranza non è certezza che ti mette al sicuro dal dubbio e della perplessità. Tante volte la speranza è buio, ma c'è lì la speranza che ti porta avanti. fede è anche lottare con Dio, mostrargli la nostra amarezza senza piefinzioni. Mi sono arrabbiato con Dio e gli ho detto questo, questo, questo. Ma Lui è Padre, Lui ti ha capito, vai in pace. Avere questo coraggio, avere questo coraggio. E questo è la speranza. E speranza è anche non avere paura di vedere la realtà per quello che è e accertarne le contraddizioni.